Claudio Faraldi è morto mercoledì scorso nel carcere francese di Grasse in Costa Azzurra ufficialmente a causa di un attacco di cuore. Il 29enne Ligure di Ventimiglia stava scontando una condanna per rapina. Sarebbe dovuto uscire tra sei mesi con uno sconto di pena per buona condotta dal penitenziario non lontano da Cannes, lo stesso dove nell'agosto del 2010 un altro detenuto italiano, Daniele Franceschi, era morto in circostanze mai del tutto chiarite anche in quel caso ufficialmente per un attacco di cuore. I familiari di Faraldi vogliono vederci chiaro, nelle prossime ore cercheranno di raccogliere informazioni al consolato italiano di Nizza. Abbiamo saputo della sua morte soltanto dopo due giorni, vogliamo vedere il corpo prima dell'autopsia prevista per giovedì prossimo, dice il padre, per essere certi che non ci siano segni di violenza. Una visita che ci sarà fa sapere la farnesina, il permesso sarebbe stato accordato dai magistrati francesi titolari dell'inchiesta. Faraldi aveva un passato e precedenti da tossicodipendente, tre anni fa era scappato all'improvviso dalla comunità di recupero di San Patrignano. L'avevo visto due giorni prima, stava bene, non assumeva più medicinali né antidepressivi, in carcere lavorava, sostiene la sua compagna che spera anche di rientrare in possesso degli effetti personali finora negati. Alla famiglia Faraldi è arrivato il sostegno di Cira Antignano, la madre di Daniele Franceschi. La donna ha lottato a lungo per far prolungare le indagini sulla morte del figlio avvenuta in quella stessa prigione tre anni fa. Per quella vicenda un medico e due infermieri in servizio sono indagati, con il sospetto di non aver ravvisato tempestivamente la necessità di ricoverare il 36enne toscano.